Innanzitutto volevo ringraziare Karma, non lo vedo, presto sia di sopra. Grazie Karma per l'opportunità. Grazie Wishlist, grazie Valerio. Un altro prende un momento per presentare bene. Bene, vedete. Al basso, Vindola Meloni. Batteria, Matteo Morini. Tassiere, sali versati. Ancora una volta, io mi chiamo Thomas Pellici, vi ringrazio per l'attenzione, vorrete rarmi su tutti i social e vorrete rarmi su tutti i distributori. Grazie e buona notizia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.